zainetto cosciale e bag security si tratta una zainetto interamente in cordura nera con velcri che sono comunque sia amovibili qualora non lo vogliate utilizzare si può togliere e al posto su metterne uno neutro con altre tipologie o altri colori abbiamo una tracolla sganciabile e regolabile ovviamente per portarlo a tracolla altrimenti tramite questa apertura si può posizionare la parte della tracolla che ha il velcro in questa posizione che è velcrata e viene ad aderire perfettamente richiuderlo e così diventa un cosciale da cintura e con quest'altra parte tra l'altro elasticizzata possiamo agganciarlo a una gamba se andiamo in moto o se riteniamo portato uno fare questa operazione il vetro infatti un'altra tasca e un aggancio per fare questa operazione velcrato per cui questa parte qua è amovibile due taschine laterali chiuse da moschettone altre due tasche profonde ma aperte sempre laterali zip per accedere sotto che è tutto vacuo poi all'interno sia da velcro che da moschettone troviamo i vecchi regolazione un'altra genera lampo con una taschina accessibile tramite questa lampo e all'interno abbiamo messo per far capire la capienza abbiamo messo due laconi spray proprio per far capire la capacità di carico di questa e inoltre dentro possiamo vedere a un'altra tasca cuciture ben fatte materiale molto solido colore nero praticamente trasformabile in qualunque opzioni vogliate e quindi e quindi Grazie.